Oh, che bella donna, è meravigliosa, stupenda, è fatta bene, guarda, è bellissima, è bellissima. Senti, io me provo con la bruna là, perché tu non provi con la bionda, l'amica? Non mi interessa. Come non ti interessa? Perché non ti interessano più le donne, no? Non è quello, ho smesso di avere rapporto sessuale con le donne. Perché? Mi hanno detto che ormai me la posso cavare da solo.